Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. Ricollegandomi all'ultimo argomento trattato, le azioni, oggi faremo un'introduzione generale per quanto riguarda i maggiori indici borsistici e le principali società quotate come capitalizzazione. In Italia abbiamo il Fuzimib, l'Eurostock 50 in Europa che raggruppa le 50 aziende a maggior capitalizzazione europea, il DAX in Germania, il Fuzi 100 a Londra, il CAC 40 a Parigi e lo SMI in Svizzera. Negli Stati Uniti il Dow Jones è l'indice anche più vecchio e più famoso, lo Standard & Poor's 500 che comprende le 500 aziende a maggior capitalizzazione nella borsa americana e l'indice Nasdaq che rappresenta l'indice dei titoli tecnologici. In Giappone abbiamo il Nikkei, Shanghai in Cina e Langseng a Hong Kong, quantomeno per avere un'idea dei principali indici mondiali. Entriamo adesso nel merito e in quelle che sono le principali aziende a livello mondiale come capitalizzazione borsistica. Al primo posto abbiamo Apple, Alphabet al secondo, Microsoft al terzo, tutte aziende americane. Amazon al quarto posto. Al quinto posto troviamo la Tencent Holding che è la prima società cinese. La Berkshire Hathaway al sesto posto, al settimo posto Facebook, all'ottavo Alibaba cinese che non è altro che il concorrente di Amazon. Johnson & Johnson al nono e al decimo la JP Morgan Chase. Come possiamo vedere sono tutte aziende tranne due americane. L'evoluzione degli ultimi anni a livello di capitalizzazione ci dimostra di quanto l'economia sia concentrata principalmente sul mercato americano e per quanto riguarda anche l'evoluzione del mercato cinese che negli ultimi anni ha soppiantato tante aziende americane ma soprattutto europee. Infatti nei primi dieci posti non c'è nessuna azienda europea. La citazione di oggi, per rimanere in tema borsistico, è la seguente. Acquisto come se dovessero chiudere le borse domani e non riaprirle più per i prossimi cinque anni. Warren Buffett. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto.